Nel luglio 2010 è nata WING.it, l'offerta di gioco online del gruppo Buongiorno. Titolare della concessione AMS numero 15011 per i giochi a distanza, in poco tempo WING è diventata protagonista di primo piano nel grande mondo dei giochi online. Oggi WING è una realtà di riconosciuto successo, ma diciamolo, WING è anche una bella parola, divertente, quasi una formula magica. Contiene il win di vincita e il ga di game. Game come gioco. E infatti è proprio l'ampia gamma di giochi offerta sul portale a decretarne il successo. Una grande sala giochi digitale dove poter scegliere tra poker, giochi da casino, bingo e skill games. Con tutto il piacere di condividere il divertimento in una grande community. Per giocare bisogna essere maggiorenni, essere in possesso di un codice fiscale italiano e registrarsi seguendo la procedura passo dopo passo. E ovviamente giocare sempre responsabilmente. Ma adesso andiamo a navigare sul sito e vediamo cosa ci offre WING.it gioco per gioco. WING Poker nasce per offrire la migliore esperienza di gioco sia agli abitui che ai giocatori occasionali. Un fitto calendario di tornei e le continue promozioni rendono WING Poker una delle room di riferimento del panorama italiano. Giocare è molto semplice. Basta scaricare il client su WING.it. Oltre ai tornei puoi cimentarti con il cash game. Ti siedi ai tavoli da gioco e scegli tu quanto giocare mano per mano. E se vuoi essere sempre aggiornato e scoprire tutte le ultime novità c'è il WING Poker blog dove con un linguaggio chiaro e semplice vengono spiegate le nozioni base ai principianti. E fornite consigli utili ai giocatori più esperti. Con WING Poker infine partecipi al programma VIP. Accumulando punti, i WING Points che ti consentono di poter scegliere tra oltre 70 premi. Tra viaggi, bonus, gadget, technology e molto altro ancora. Pronto a giocare? Diverse sale con cartelle a partire da 10 centesimi. La possibilità di vincere ricchi, jackpot e bonus. E un palinsesto con tante partite speciali da scoprire andando sul sito. Questo è il bingo firmato WINGA. Una community vivace e animata con cui condividere ogni estrazione e divertirsi ogni giorno. E acquistando una cartella in una delle sale di WINGA.it, entri automaticamente a far parte del VIP System. Accumulando WING Bingo Points. Spendibili nel WINGA VIP Store, dove troverai un'ampia scelta di prodotti. Dai bonus per continuare a giocare a bingo, ai gadget, ai prodotti di high-tech, fino a regali più importanti. Come quelli della sezione free o luxury. E allora vai subito su www.winga.it e buon divertimento! Con WINGA puoi ritrovare tutto il fascino del casino semplicemente andando sul sito www.winga.it WINGA Casino è stato tra i primi casino online ad avere la licenza AMS per poter proporre giochi da casino in modalità remota. Quattro sono le categorie di gioco offerte. I giochi di carte, le roulette, i video poker e le slot machine. Con tantissime varianti per ciascuna categoria. Nella sezione dedicata alle roulette abbiamo diverse versioni sia della francese che dell'americana. Anche per i video poker abbiamo diverse versioni. A 1, 25 o 50 linee. E infine ci sono le slot machine. Oggi proposte in modalità for fun, ossia senza l'utilizzo dei soldi, per divertimento. Ma la grande novità del casino di WINGA è WINGA TV, il primo e unico canale televisivo ad aver portato il casino nel salotto degli italiani. Premiamo la seconda dozzina, la prima colonna e i giocatori che tra le puntate speciali hanno scelto la serie 5 e 8. Continuiamo a giocare perché il tavolo torna ad essere aperto. Infatti, WINGA TV, al canale 63 del Digitale Terrestre, oggi offre due format per giocare alla roulette in diretta. Non Stop Roulette, dove una vera roulette lancia la pallina attraverso un sistema meccanico ad aria compressa. E Roulette Show, dove un gruppo di croupiers si alternano spin dopo spin. L'offerta di WINGA non finisce qui. Ci sono anche gli skill games con due dei più importanti giochi di carte, scopa e burraco. I giocatori possono scegliere la modalità for fun oppure for real, a partire da un euro, divertendosi con tornei o sit and go. E allora, buon divertimento su WINGA Casino. WINGA sa che gli appassionati di gioco amano giocare ovunque. Per questo, ha predisposto una serie di modalità per registrarsi e divertirsi anche da mobile. Vai su WINGA.it dal tuo smartphone o dal tuo tablet. Accedi al sito mobile di WINGA e scopri tutti i giochi offerti. Bingo Mobile L'app gratuita disponibile per iOS e Android. Casino Mobile Per poter giocare dal tuo smartphone, hai principali giochi da casino. Roulette, Blackjack, Jacks or better. Sia in modalità for fun che con l'utilizzo di soldi veri. Tutto senza scaricare alcuna applicazione. Roulette Show Mobile Che ti permette di giocare a Roulette Show, lo show di WINGA TV, attraverso il tuo smartphone o attraverso il tuo tablet. E infine, WINGA Roulette TV L'app gratuita per giocare a roulette in modalità for fun. Per tutte le info sulla compatibilità, vai su WINGA.it Tutto ciò che devi fare è accedere al conto di gioco che hai con WINGA autenticandoti sul tuo cellulare, con email e password. Se non sei ancora registrato, puoi farlo direttamente sul tuo telefonino. E allora buon divertimento con WINGA Mobile e buona navigazione su WINGA.it Gioca sempre responsabilmente.